Questo è un esercizio che serve per capire la termistica, quindi non facciamo così. Facciamo, che non ha il bastone? Ho un po' di bastone. Quindi, io sono il bastonatore. Cosa faccio? Così, lentamente, tu quando vedi che il bastone si allontana, brava, ti slanci contro, fai proprio un tuffo. Così. Ti tuffi, fallo tu. Quando il bastone si allontana, mi tuffo così. Vado con questa parte qua degli avambracci, verso di lei, e con una mano c'è più calda, con l'altra, con l'altra, con l'altra. Stiamo facendo così. Ora lo facciamo piano, se lo faccio forte, lo faccio male. Poi, colpo alla mano, colpo al viso, colpo alla gola. Ok, però se io faccio così velocemente.